La pace richiede il concorso di tutti. Ho visto come esistano fili tenui per la pace, l'esercizio dell'umanità tenui, ma reali, messi in discussione dall'assenza di dialogo che può invece rafforzarli. Occorre insistenza e la convinzione che è la pace il destino, non la guerra o l'ingiustizia. Sono le parole del Cardinale Matteo Maria Zuppi in apertura della 78esima Assemblea Generale Straordinaria dei Vescovi Italiani. Il primo pensiero dell'Arcivescovo di Bologna è andato alle guerre che dominano gli scenari del mondo, con il rischio di poter diventare la terza guerra mondiale a pezzi di cui parla sempre Papa Francesco. Non si tratta di pessimismo, ha sottolineato Zuppi, ma di realismo e di responsabilità, perché la pace non può esistere senza sicurezza e questa non può essere garantita solo dalle armi. Il compito della politica dunque deve essere quello di pensare a strumenti condivisi di composizione dei conflitti. Alle parole va unita l'azione, come ha fatto Papa Francesco nel caso dell'Ucraina, quando si è detto disponibile ad agire per la pace e per scoppi umanitari e quando ha inviato lo stesso Zuppi sia a Kiev che a Mosca. Il presidente della CEI ha sottolineato l'invito del Papa a discutere del futuro del conflitto nato dall'invasione russa anche a Washington e a Pechino. Nel settembre del 2023 poi ha ricordato l'Arcivescovo di Bologna l'enclava armena del Nagorno-Karabakh è stata occupata dalle truppe dell'Azerbaijan e gli armeni hanno abbandonato la terra in un esodo tragico. Un piccolo mondo cristiano tanto antico finisce, ha sottolineato, noi non siamo indifferenti e sentiamo la ferita di questa sofferenza e della mancata soluzione negoziata. Le lacrime sono tutte uguali, ha sottolineato Zuppi, ricordando il brutale attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre scorso, gli ostaggi in mano ai terroristi e la reazione militare contro Hamas sulla striscia di Gaza. Ogni uomo ucciso significa perdere il mondo intero, ha sottolineato ribadendo che l'odio non deve mai giustificare la violenza contro gli innocenti. Questo vale anche per il risorgente antisemitismo. Sappiano i nostri fratelli ebrei, ha detto il cardinale Zuppi, che la Chiesa non solo è loro vicina ma considera ogni attacco a loro, anche verbale, come un colpo a se stessa e un'espressione blasfema di odio. La fine dell'antisemitismo, ha ricordato Zuppi, è un impegno educativo, religioso e civile della Chiesa italiana che non sottovaluta i rigurgiti di odio e razzismo per chiunque.